Sistema Critico è un blog di giornalismo culturale nato a Pesaro Urbino con lo scopo di aggregare le persone e di approfondire tematiche culturali che ci riguardano. È composto da più di 30 studenti universitari, questa è la dimensione che ha sempre voluto incarnare ovvero quella di ragazzi e ragazze che si mettono in gioco, che cercano di approfondire delle questioni magari che sono molto complesse, cerchiamo di gestire la complessità in un modo che sia accessibile ma che sia anche comunque studiato e critico, infatti critico deriva dal fatto che tutto quello che trattiamo dalla filosofia, l'economia, la musica, l'arte, cerchiamo di renderlo accessibile ma comunque di non essere mai superficiali. A Pesaro Urbino da anni organizziamo eventi culturali, cerchiamo di aggregare le persone, di creare piattaforme virtuali, fisiche di confronto, una di queste è la più famosa, lo speech cocktail. Si tengono all'Alexander Palace Museum in Viale Trieste e sono un'ottima occasione di dibattito per quanto riguarda il pubblico giovane ma anche non e trattano di diversi temi, quale attualità, cose anche magari più complicate come l'anno scorso ne abbiamo ottenuto uno sull'intelligenza artificiale che rimane comunque molto interessante, pur sempre attuale, però insomma i temi variano e spaziano moltissimo. Prossimamente diventeremo situazione culturale e tra i vari progetti che abbiamo in cantiere abbiamo diverse collaborazioni con blog come gli Stati Generali e abbiamo un podcast che è in fase di realizzazione che uscirà presto, a metà o fino agosto, adesso vedremo le tempistiche e poi abbiamo anche in cantiere una collaborazione con Leggi Scomodo che è una rivista studentesca italiana delle superiori prevalentemente con cui speriamo di poter instaurare un rapporto proficuo. Sono in sistema critico da cinque mesi circa, però già posso dire che di aver appreso tanto da questa esperienza, un'esperienza per ora breve ma che mi ha fatto capire e comprendere quanto vi siano altri giovani che come me sono interessati ad avere un approccio critico, appassionati di politica ma di attualità to cure quindi dal che mi sentivo un po' estranea, dal che non riuscivo a trovare una valvola di sfogo quando ho conosciuto queste persone mi sono dovuta di credere. Ecco, e questo mi ha dato un po' anche speranza devo dire per il futuro, mi ha dato speranza e mi ha dato anche voglia nuovamente di credere nella mia generazione e questo penso sia stato molto benefico sia per me e poi per quello che sto riuscendo diciamo così a concretizzare con sistema critico dalla semplice scrittura che è molto migliorata ma anche da, come dire, ho conosciuto molte persone, sto conoscendo molte persone e sto entrando nel vivo veramente, credo nel mondo, ecco, senza presunzione, senza esagerare però credo questo di poterlo affermare.